Per il Consanglio Channel anche il nuovo sponsor Massimo Donati, Giacco Lasciarparcollo, 90 minuti a Cardiopalmo. È stata una buona partita nei primi 45 minuti, 2-0, sembrava patta, poi la squadra nel secondo tempo è entrata in campo demotivata, forse era convinto di aver portato a casa il risultato, questo chiaramente non deve più succedere perché queste sono partite particolari, se la squadra avversaria gli dai l'occasione per rimettersi in palla rischi di fare dei danni, quindi noi abbiamo rischiato grosso di fare dei danni, io mi auguro che la squadra capisca che devono giocare sempre con la stessa motivazione e la stessa intensità, altrimenti non so da poter fare. Il pubblico di Ponzacco, anche se era una giornata più da male che da stadio, è risposta presente? Il pubblico di Ponzacco lo conosciamo tutti, è un pubblico che ha fatto categorie importanti, dall'eccedenza della Serie D fino alla C2, quindi è un pubblico esigente, è un pubblico che segue la squadra, però la squadra deve seguire il pubblico. L'imperativo di questa stagione è vincere assolutamente. Lo sponsor Massimo Donati è stato chiaro anche per la squadra, bisogna vincere. Ma è chiaro che per Ponzacco queste categorie non ci stanno a fare niente, è chiaro che poi vincere è sempre difficile, non vincere una, però la squadra deve entrare in campo sempre con la mentalità vincente, con l'obiettivo del risultato e non si deve permettere queste sfasature, perché altrimenti rischia addosso e Ponzacco con questa ragione non può rischiare niente. Ringraziamo Massimo Donati.